Ciao, allora, oggi come leggete dal titolo parliamo di libri. Vorrei parlare di quei libri che abbiamo letto o perché ci sono stati regalati o perché in qualche modo ci sono capitati fra le mani. Noi lettori tendenzialmente abbiamo un nostro genere, un nostro gusto personale sia di scrittura appunto che proprio di genere letterario e salvo i rari casi appunto del lettore onnivoro ci sono delle cose che evitiamo come la peste, un po' per pregiudizio, alle volte un po' per altro. Io prima non ero assolutamente un lettore onnivoro, anzi mi orientavo solo ed esclusivamente su determinate cose e sto un po' cambiando proprio grazie a fatti ed eventi che mi hanno un po' tra virgolette imposto delle letture che io non avrei fatto. Oggi vi voglio far vedere cinque libri che io appunto ho letto ma che in realtà non avevo nessuna intenzione di leggere e che non volevo proprio neanche avvicinarmici e niente, vi mostrerò poi anche gli altri. Di questi libri ora vi parlerò in maniera molto veloce e poi farò sicuramente delle recensioni più approfondite perché sono dei libri molto interessanti secondo me. Allora, partiamo da Verga, in malavoglia. Io ho letto questo libro per vicissitudine scolastiche, in realtà non lo volevo leggere, mi sono rifiutata fino all'ultimo, poi alla fine sono stata costretta e l'ho letto. Io sono una di quelle che quando a scuola gli dicevano legge questo libro, puntualmente non lo leggeva e mi andavo a cercare delle recensioni ovunque perché all'epoca internet non era ancora proprio... Cioè, ad esempio non ho mai letto Calvino, non ho mai letto il gabbiano Giona d'Alleviston, cioè assolutamente niente di tutto questo. Giona che visse nella balena, io non li ho mai letti, il diario di Anna Frank, niente. Ci hanno provato in tutti i modi a farmi leggere queste cose e io mi sono sempre rifiutata. Tra questi c'era anche Verga, i Malavoglia. Verga, Verista, Siciliano, i Malavoglia sono una famiglia siciliana e in questo romanzo si narrano le vicende di questa famiglia, di tutti quanti, padre, madre, figli, insomma di tutti questi componenti e sono una famiglia che vive un estremo grado di disagio e di povertà in una Sicilia veramente molto arretrata, molto povera e tentano in ogni modo e maniera, facendo anche cose alle volte poco lecite o comunque poco morali se vogliamo, tentano in ogni modo di uscire fuori da questa loro condizione. Tuttavia non ci riescono e come ci insegna Verga non si può uscire fuori da questa nostra condizione perché noi nasciamo in un certo modo e mettiamola così, passare di livello non è una cosa che succede, no? E infatti in questo libro avvengono tutta una serie di di fatti e di situazioni estremamente tragiche che affosseranno ancora di più questa famiglia. Io l'ho trovato un romanzo molto bello, molto ben scritto seppur ovviamente non in un italiano corrente quindi molto diverso da quello che noi parliamo oggi molto inframmezzato anche da vocaboli dialettali da intere frasi dialettali dipinge un ambiente che sicuramente ci è un minimo noto magari per qualche sceneggiato della televisione eccetera eccetera e anche perché ovviamente credo che tutti anche geograficamente più o meno sappiamo riconoscere determinati luoghi. Io l'ho trovato molto 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 bello uno dei miei libri preferiti in assoluto e ve lo devo paragonare poi ad un altro perché io li ho trovati molto diciamo simili come contenuti soprattutto libro che io ho amato tantissimo e che ho addirittura riletto. Il secondo è questo cronaca di una morte annunciata di Marquez allora Marquez sicuramente rientra fra quegli atori che io reputo o perlomeno reputavo immensamente noiosi non avevo per niente una buona opinione poi ho trovato questo libro in casa non capisco come ci sia arrivato mio marito sostiene che non è il suo invece secondo me sì perché è proprio una delle sue letture tipiche fatto sta che non sapevo cosa leggere ho visto questo che era estremamente piccolo la trama non mi sembrava poi così male e quindi ho detto vabbè proviamo perché no mal che vada lo ributto nella libreria e arrivederci in realtà questa storia è bellissima ambientazione ovviamente diversa perché si svolge spero di pronunciarlo bene Manaure un villaggio dei Caraibi e il protagonista è Santiago Nasar Santiago Nasar non lo sappiamo subito perché ce lo dice anche il retro di copertina ma lo sappiamo dalle prime pagine morirà quindi cronaca di una morte annunciata questo libro ripercorre tutti gli eventi che portano a questa morte e fino all'ultimo noi non sappiamo perché muore e come muore e chi lo uccide viene narrata questa vicenda sotto vari punti di vista nel senso che non è narrata coralmente quindi non è più voci ma è narrata nella maniera più trasversale possibile quindi alle volte cambia proprio il punto di vista fisico di un evento ci viene raccontata in vari slanci temporali quindi ci sono poi alla fine vari fili da riannodare io l'ho trovato un bellissimo libro che si legge velocemente un giallo diciamo un po' atipico un po' diverso dai soliti a cui magari uno è abituato che descrive perfettamente anche le ambientazioni quindi ci dà un che di suggestivo a me sembrava sempre di essere in una puntata di zorro o una cosa del genere il linguaggio è anche molto bello molto curato senza essere però pesante ripetitivo, noioso e assolutamente da leggere secondo me poi un libro invece che probabilmente tra questi è quello che mi è piaciuto meno e che in generale io non ho potuto apprezzare più di tanto è Salinger Freni e Zoi io ho comprato questo libro a fronte di una di quelle offerte tipo 3x2 prendi questo ti regalo quell'altro roba di questo genere e non sapendo che prendere ho preso la prima cosa che c'era lì e allora io non so se Salinger scrive tutto così comunque vi faccio notare che è scritto anche abbastanza piccolo quindi ho avuto difficoltà anche per leggerlo per via di questo però l'ho trovato estremamente pesante che ha tratti anche spocchioso perché è proprio ridondante come anche citazioni non lo so di Salinger e di questo libro mi è piaciuto molto come tratteggia determinate situazioni cioè descrive una scena alla stazione del treno che vi rimane estremamente impresso oppure la scena all'interno di un caffè vi sembra proprio di essere lì con i protagonisti e di sentire l'odore di sigaretta di sentire l'odore del caffè anche la scena che io trovo la più bella in assoluto in questo libro è una scena che si svolge all'interno del bagno dove i due protagonisti Frenny e Zoe che sono due fratelli dialogano è una scena molto suggestiva molto vivida molto bella in sostanza di cosa parla? sullo sfondo di questa Europa un po' anche snob appunto anche un po' sì un po' snob non mi viene un altro termine un po' bohemian questi due fratelli due di una lunga schiera perché ci sono vari fratelli scopriremo fanno questo dialogo molto interessante su un libro che uno dei due ha letto questo libro sembrerebbe racchiudere in sé il mistero della vita della spiritualità e della nostra felicità cioè sembra racchiudere tutte le risposte che in realtà noi cerchiamo sempre è una riflessione molto profonda che fanno fanno proprio un bel botta e risposta molto intenso e tuttavia io l'ho trovato estremamente pesante troppo forse anche filosofeggiante e didascalico ci lascia secondo me con un grosso punto di domanda proprio su questa riflessione sulla nostra vita e sulla nostra spiritualità ma l'ho trovato un po' troppo e io fino in fondo questo libro non credo di averlo compreso molto difficile anche il linguaggio anche come sono composte le frasi ci sono descrizioni di scene che io a un certo punto proprio non riesco a ricollegare con i fatti poi salienti ci ho messo tantissimo a leggere questo libro molto piccolo io non lo so sicuramente è da rileggere però attualmente io se dovessi scegliere di leggere Salinger basandomi su questo probabilmente non lo farei credo che lo scopo del libro sia stato quello proprio di lasciarci un po' con il punto interrogativo ma tutto sommato non mi ha spinto poi a una riflessione vera cosa invece che mi ha spinto a fare questo questo libro io l'ho ricevuto in regalo quindi è particolarmente prezioso il maestro e margherita me lo ha regalato la mia amica Viviana che è una ragazza molto intelligente molto acuta e che è veramente una gran testa e quindi non mi sono potuta comunque trattenere da leggere questo libro perché ero quasi certa che anche se era una lettura lontana da me mi sarebbe piaciuta perché appunto conosco lei e non avevo dubbi che avesse scelto comunque questo libro so anche che questo libro lei lo ama particolarmente quindi veramente l'ho letto con molto piacere qui c'è la sua dedica e quindi niente molto speciale allora io proprio non sono per gli autori russi per i giapponesi cioè proprio no non ce la faccio sono molto lontani da me tuttavia devo dire che questo libro si è fatto amare di che cosa parla? ha un tema molto simile a quello precedente quindi parla di spiritualità di vita di Dio nello specifico il protagonista di questo libro di cui assolutamente però io non riesco a pronunciare il nome non lo ricordo tuttavia questo protagonista cerca di convincere un suo amico che appunto Dio non esiste e che lui ne ha le prove nell'ambito di questo incontro a un certo punto arriva questa figura misteriosa che si rivela essere il diavolo il quale tenta di convincerlo del contrario cioè che Dio esiste questo perché sostanzialmente perché sconfessare l'esistenza di Dio sarebbe sconfessare l'esistenza del diavolo e ovviamente questa cosa non va bene quindi questo questo diavolo tenta con vari racconti e con vari stratagemmi di convincere questa persona del contrario riporta anche ad esempio aneddoti sulla vita di Gesù in cui lui era presente e fa anche determinate cose che in qualche modo sconvolgono la vita del nostro protagonista io l'ho trovato molto poetico estremamente ben scritto anche se un po' complesso con un linguaggio cioè ad esempio Fandonie no? Fandonie è una di quelle parole che non si sente e qui è pieno di parole appunto che non si usano più una forma di linguaggio anche qui un po' più complessa sicuramente dovuta anche al fatto che viene tradotto da un'altra lingua che sicuramente è molto diversa dalla nostra io ho avuto due difficoltà principali per portare a termine questo libro la grandezza appunto il formato e poi i nomi io i nomi non riuscivo a leggerli faticavo a ricordarli ho faticato anche a mettere a fuoco lo sfondo perché proprio non conosco neanche geograficamente questi posti non ho idea di come siano e quindi mi sono trovata in difficoltà per quello tuttavia io l'ho trovato un libro bellissimo che senza dubbio rileggerò e che mi ha lasciato sì con un punto di domanda ma con una spinta a riflettere di più su determinate tematiche non l'ho trovato così fine a se stesso anzi una lettura molto impegnativa un po' complicata ma secondo me anche di questi tempi dà qualcosina in più poi l'ultimo è sempre un regalo con la Goliarda Sapienza l'arte della gioia questo l'ho ricevuto in regalo sempre da una persona che io amo molto e che stimo molto esattamente come per la mia amica Viviana e sto parlando di mia zia mi ha regalato questo libro a Natale qualche anno fa e lì per lì sono rimasta un po' sconvolta soprattutto leggendo anche la trama ripeto non poteva essere una cosa più lontana in realtà io l'ho apprezzato tantissimo non solo perché è scritto bene perché è scritto veramente benissimo è estremamente scorrevole nonostante sia ricco di tanti fatti e di tanti dettagli si riesce a tenere perfettamente il filo di tutta la storia senza perdersi senza annoiarsi mai questa è la storia di Modesta questa giovane donna che fin da quando è bambina sa di di dover lottare molto sa che la sua vita parte un pochino svantaggiata quindi qui ritorniamo un po' al discorso dei malavoglia in quanto lei non solo è povera ma è donna e dovrà lottare oltretutto lei si mostrerà appunto nella sua crescita essere una donna molto particolare con gusti particolari con tendenze particolari con desideri particolari ma soprattutto una donna con un grande cervello e questa è una cosa che ha sempre spaventato e sempre spaventerà e quindi lei dovrà farsi dovrà farsi valere parecchio perché questo titolo l'arte della gioia perché in realtà lei ci dice ci racconta quanto sia importante imparare ad essere felici e trovare la gioia sempre in quello che ci accade nella nostra vita quindi ci dice proprio che è un'arte nulla io vi ho raccontato più o meno tutto di questi libri anche se ve ne parlerò molto meglio in un secondo momento questi sono i miei libri che non avrei mai letto se anche voi avete dei libri che avete letto ma che in realtà non avreste mai voluto leggere fate un video scrivetelo qui sotto fate come volete io vi saluto e spero di avervi tenuto compagnia ciao